Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. Una senza tetto è stata trovata senza vita questa mattina sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara dove una volta c'era un parcheggio custodito. Sul posto è arrivata subito una ambulanza del 118 con i sanitari che hanno potuto però constatare solo il decesso. Nel tunnel ritrovo abituale di clochard al lavoro gli agenti della Polfer, della squadra volante, della scientifica. Si tratta di una persona che da tempo si era allontanata da casa e che era conosciuta nella zona della stazione dove spesso trovano un rifugio. Tanti senza tetto. Le indagini sono affidate agli agenti della Polfer coordinati dal comandante Davide Zaccone. E ora ci spostiamo a Teramo. Gli sfollati delle palazzine Ater di Colle Atterrato si sono costituiti in associazione ed hanno incontrato le istituzioni per ricordare loro che sono fuori casa da 12 mesi. La protesta si è estesa anche ai ritardi nella ricostruzione che non è ancora iniziata dopo un anno dal sisma e che non ha tempi certi. Tania Bonici Castelli. Gli inquilini Ater di Colle Atterrato a Teramo sfollati dalle proprie abitazioni dopo i terremoti del 2016 stanno impazzendo dietro la burocrazia della ricostruzione. Sono trascorsi quasi 12 mesi e di rientrare a casa proprio non se ne parla. Così chiamano a raccolta le istituzioni in una grande assemblea alla quale partecipa anche il comune di Teramo che sborsa circa un milione al mese per pagare l'autonoma sistemazione di chi ha immobili inagibili. La domanda è una sola. Quando possiamo rientrare? La triste constatazione invece è quella che le palazzine Ater erano antisismiche e consegnate nel 2013. La domanda è una sola. Quando è che possano rientrare nelle proprie abitazioni? Questa è una domanda purtroppo che non sempre si riesce a dare una risposta o perlomeno questa è stata per me la sensazione di questo incontro. Perché? Perché per raggiustare tutte le case Ater occorre più di 50 milioni. Lo Stato ha stanziato solo 4 milioni che forse arriveranno a gennaio o febbraio. Quindi a gennaio o febbraio si devono programmare le progettazioni. È tutto l'iter che ne consegue per arrivare poi a cantierizzare, a lavorare e far rientrare queste persone nelle abitazioni. I tempi sono molto lunghi. E questo incide sulle casse dello Stato e soprattutto del comune che deve pagare l'autonoma sistemazione? Sì, questo incide sulle casse dello Stato perché si continuano a pagare l'autonoma sistemazione. Ricordo ogni due mesi noi spendiamo quasi un milione e mezzo. Ma soprattutto vi sono queste persone che dicono noi non vogliamo l'autonoma sistemazione, noi vogliamo tornare nelle nostre case. Intanto il quartiere di Collatterrato sta morendo e soprattutto è all'abbandono. Guardi, questo è un problema della quartiere di San Benedetto, di Collatterrato, è un problema di Teramo. Ecco qual è il vero obiettivo, far sì che l'ufficio delle ricostruzioni funzioni da subito. Perché la legge dello Stato prevede che le tipologie B, che sono danni lievi, devono essere aggiustate prima possibile per far sì che la persona rientri nella propria abitazione. Ma se oggi ancora non parte un solo cantiere di tipologie B, che molte volte sono lavori di pochi giorni, questo è il vero dramma che stiamo vivendo non solo in quel quartiere, in tutta la città di Teramo. Per i reati contestati a vario titolo di associazione per delinquere, truffa, ostacolo all'attività di Banca Italia e false dichiarazioni nel prospetto informativo depositato alla Consob, la Procura di Bari ha notificato la proroga delle indagini ai vertici della Banca Popolare di Bari. I fatti risalgono al periodo 2013-2016, quando la banca acquistò la cassa di risparmio di Teramo. Sei gli indagati, il presidente Marco Iacobini, l'allora di G, Vincenzo De Bustis, ex AD di MPS e Deutsche Bank, i due figli di Iacobini, Gianluca e Luigi, rispettivamente condirettore generale e vice, il responsabile della linea di contabilità e bilancio della Popolare, Elia Circelli, il dirigente dell'ufficio rischi, Antonio Zullo. A carico di Marco Iacobini e dei figli si ipotizza anche il maltrattamento e l'estorsione. De Bustis, invece, è accusato solo di maltrattamenti. La vicenda riguarda presunte irregolarità nascoste nei bilanci dell'istituto, svelate ai PM da un funzionario. Pronta la nota di reazione dell'istituto bancario pugliese, che sottolinea come le dichiarazioni rancorose di un dipendente licenziato per giusta causa, è bene che siano oggetto di ogni approfondimento da parte della Procura, per consentire poi alla Banca Popolare di Bari di agire nei confronti dell'autore di tali inaccettabili propalazioni. Sia chiaro, continua la nota, che per la Banca contano solo i fatti, gli atti, i numeri, la trasparenza delle procedure e, di conseguenza, la fiducia dei soci e dei clienti. Restano molto gravi le condizioni del volontario della protezione civile, rimasto ferito mentre era impegnato con altre persone nelle azioni di spegnimento dell'incendio del Morrone. Lo fa sapere in una nota l'ufficio stampa della ASL provinciale dell'Aquila. L'uomo, colpito da un masso attualmente ricoverato in rianimazione all'ospedale dell'Aquila, resta in prognosi riservata. Viene tenuto in coma farmacologico ed è intubato. Il paziente, 30 anni, riferisce la ASL, ha riportato lesioni al cranio e al viso e domani mattina verrà sottoposto ad approfondimenti diagnostici, TAC e altri esami per dar modo ai medici di avere ulteriori elementi al fine di valutare l'eventualità di sottoporlo a interventi che riguardano sia l'aspetto neurochirurgico sia quello di natura maxillo-facciale. L'incidente è avvenuto lunedì nella zona di Passo San Leonardo, nel territorio comunale di Pacentro. Le condizioni dell'uomo, originario di Pettorano sul Gizio, in provincia dell'Aquila, sono sembrate subito gravi e dopo un primo ricovero all'ospedale di Sulmona, il trentenne è stato trasferito urgentemente all'ospedale San Salvatore. Il TAR respinge il ricorso per l'ospedale di Penne contro il piano di riordino della rete ospedaliera stabilito dalla Regione Abruzzo. Per esprimere la contrarietà verso le decisioni prese dal TAR, il 2 settembre si terrà la manifestazione per salvaguardare l'ospedale San Massimo. Il servizio della redazione di Vestina News. I problemi per l'ospedale San Massimo di Penne sembrano non finire mai. Dopo aver subito l'accorpamento dei reparti, il TAR d'Abruzzo di L'Aquila ha rigettato il ricorso del comune Vestino contro i decreti commissariali che hanno stabilito il declassamento del San Massimo a ospedale di area disagiata. E una sentenza a mio avviso discutibile sul piano giuridico è stato il primo commento del sindaco Mario Semproni, perché i giudici amministrativi non hanno tenuto conto di alcuni rilievi fondamentali sollevati del nostro ricorso. Rimane singolare però, continua Semproni, come il governo regionale possa esultare per una sentenza che nel merito declassa l'ospedale San Massimo e sopprime il diritto alla salute di un territorio già fortemente penalizzato dalla calamità di gennaio. Nei prossimi giorni valuteremo se apperlarci alla sentenza del TAR di L'Aquila dopo aver fatto il punto con i nostri legali. Intanto, sempre dalla pagina Facebook del Comune, il sindaco fa sapere che sabato 2 settembre sarà presente alla manifestazione organizzata dal Comitato Cittadino che da mesi si batte per la tutela del San Massimo dove sarà presente anche l'avvocato Natalia Morricone legale rappresentata del Comitato di Protesta che ha espresso la propria contrarietà per la decisione assunta dal TAR e la volontà di non arrendersi davanti a questa sentenza. Una premierità di 69 milioni e 700 mila euro alla sanità abruzzese assegnati alla Regione dal tavolo di monitoraggio costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze nel documento si evidenzia l'adempimento degli obiettivi previsti per l'annualità 2015 e l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale. Per quanto riguarda il piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale i tecnici ministeriali hanno valutato favorevolmente i risultati degli indicatori LEA 2015 i livelli essenziali di assistenza assegnando un punteggio di 182. È stata invece sollecitata la definitiva implementazione delle forme associative in materia di assistenza primaria oltre alla stesura di un documento completo sull'assistenza territoriale sulla base di quanto previsto dal piano di riqualificazione. Credo che questo verbale, commenta l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Parucci, sia la migliore risposta alle polemiche dei mesi scorsi che mettevano in dubbio i risultati del lavoro messo in campo dal governo regionale in questi tre anni. Abbiamo finalmente le basi per concentrarci su quelle azioni di cui gli abruzzesi hanno probabilmente una percezione più diretta ma su cui non era possibile intervenire con efficacia se prima non venivano risolti i tanti nodi a monte del sistema. Ha concluso Paolucci. All'Aquila spuntano ben due discariche abusive, una in via San Sisto, l'altra in via Antica Arischia. Molti rifiuti abbandonati durante la notte, proprio vicino le case Ater, terremotate. Spuntano due nuove discariche abusive all'Aquila, in via San Sisto e in via Antica Arischia. La prima nel piazzale interno delle palazzine Ater, ancora terremotate, ma a ridosso di case già aperte e riabitate. Viene utilizzata specialmente nelle ore notturne per gettarvi qualsiasi cosa come segnalato da alcuni residenti, dai materassi ai giocattoli a pezzi di mobili, tra erbacce, aria malsana, alberi che crescono malati. Con tutta probabilità in un'abitazione qualcuno è entrato per dormire o rubare. Sempre in quel punto, prima che il comune cui spetta la manutenzione provvedesse tempo fa a pulire una vecchia discarica, i residenti avevano trovato anche diverse siringhe usate. La seconda discarica si trova in via Antica Arischia, a pochi metri dalla sede Ater e dalle palazzine sia ricostruite che ancora terremotate. Anche qui, come nel caso di via San Sisto, è possibile notare tra garage sfondati e auto parcheggiate rifiuti di ogni tipo. Ora andiamo a Pescara. Primo consiglio comunale poster in pasto. Il sindaco Alessandrini chiede di voltare pagina per lavorare al servizio della città, mentre le opposizioni vanno all'attacco dell'esecutivo. Quali sono le priorità dei prossimi 18 mesi di governo cittadino? Noi naturalmente abbiamo le partite dell'urbanistica, che significa concretizzare una serie ancora aperte di occasioni di trasformazioni urbane che ci sono su Pescara. A quanto mi riguarda poi un tema centrale, su cui abbiamo lavorato a lungo, perché sono questioni complesse, è quello della gestione unitaria dei servizi sull'area vasta, perché al netto della grande Pescara prossima avventura noi abbiamo l'esigenza di rendere servizi pubblici che siano i più efficaci possibili in capo alla cittadinanza e che naturalmente tengano conto anche dell'efficienza. Questo si fa facendo massa critica, unendo le forze di Pescara e delle città dell'area metropolitana vasta e in questa direzione vogliamo continuare a muoverci. Alessandrini è un sindaco fantoccio che è a disposizione dei partiti, che fa soltanto quello che gli dicono i partiti. La vicenda Teodoro è emblematica. Per qualche mese i due consiglieri della lista Teodoro hanno fatto uno struzionismo becero per ottenere un risultato che era quello dell'assessorato e Alessandrini ha ceduto non perché fosse convinto di inserire Teodoro all'interno della giunta perché come sappiamo qualche mese prima aveva messo fuori la figlia introducendo altri soggetti che dovevano portare più dignità e più forza all'amministrazione. Invece questi soggetti hanno fallito totalmente. Adesso c'è il ricambio con Gianni Teodoro ma credo che questa amministrazione è avviata mestamente verso la fine e oramai siamo in discesa, un anno e mezzo di agonia. Cambiano le facce, cambiano i nomi ma rimane tutto invariato. Quindi siamo purtroppo di fronte all'ennesimo rimpasto che però non ha aggiunto nulla alla politica locale se non le solite facce che tornano a sedersi ai soliti posti. Dovrebbe esserci qualcosa di diverso. Si dovrebbe parlare di saper fare le cose, si dovrebbe parlare di meritocrazia, di preparazione, di professionalità e invece si fanno semplicemente i conti con le liste civiche e con le loro richieste riguardo gli equilibri per mantenere le solite persone al potere. Va via il colonnello e comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo Pier Vittorio Romano e dal suo posto arriva il tenente colonnello Giorgio Naselli dalla legione Calabria. Romano verrà trasferito a Chieti dove sarà raggiunto entro quest'anno dal neopromosso maggiore Domenico Calore comandante della compagnia di Giulianova. Dopo due anni un saluto alla città di Teramo. Che si sente di dire? Innanzitutto sento di ringraziare tutta la popolazione e spero nel mio anche breve periodo di aver dato un contributo. Sono cosciente che sono stati due anni abbastanza difficili per una serie di eventi che Teramo ha dovuto affrontare il terremoto, la neve. Come amministrazione abbiamo dato il massimo. È una città che ha ancora bisogno di aiuto e che comunque lascio tristemente perché mi sono trovato abbastanza bene e vorrei comunque dare un saluto caloroso a tutta la provincia. Dove andrà adesso? Andrò a Chieti come capo di Stato Maggiore al comando Legione Abruzzo e Molise. Sarò il capo dello staff del comando Legione. Il comune di Pescara da oggi potrà avvalersi di tre nuovi dirigenti che si occuperanno di importanti settori della macchina amministrativa. Blasioli, da oggi il comune di Pescara ha tre nuovi dirigenti. Sì, tre nuovi dirigenti che potranno rinfoltire la nostra rosa e la nostra classe dirigenziale con freschezza ma anche con esperienza perché insomma hanno già prestato servizio due di tre di loro in questo comune. è un obiettivo che avevamo, abbiamo scherzato anche col calciomercato che scade domani anche noi abbiamo fatto questi tre acquisti però va detto insomma che rispetto a qualche anno fa in cui i dirigenti erano 20 adesso ne sono 10 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato e quindi di questi aumenteremo di tre unità. Ci servono come il pane in questo momento anche per un rilancio dell'azione amministrativa del nostro governo cittadino. Cosa cambia realmente nello specifico con l'arrivo di tre nuovi dirigenti? Cambia intanto una cosa che noi abbiamo quattro settori ad interim per spiegare la cittadinanza significa che sono quattro settori che dovrebbero avere a capo un dirigente che in realtà sono affidati ad altri dirigenti che a loro volta hanno già altri settori. Questo significa dissipare molto del tempo per seguire più strutture in questo caso avremo due dirigenti che andranno a coprire due settori ad interim e quindi significa dedicarsi a tempo pieno anche in questi settori. E ora all'Aquila per la chiusura della 723esima perdonanza celestiniana è giunta al termine anche la serie di eventi con l'esibizione del cantante Ermal Meta. Si è conclusa la 723esima perdonanza celestiniana. L'annuale giubileo Quilano è terminato alle ore 20.05 con la chiusura della Porta Santa della Basilica di Colle Maggio che per 24 ore ha consentito ai fedeli di avere l'indulgenza di Papa Celestino V. L'astuccio della bolla portato dalla dama Giorgia Ghizzoni ha fatto poi simbolico ritorno fino al municipio di Palazzo Fibbioni nel corteo ridotto dei rientro. Il documento originale è stato esposto per due giorni nella Banca d'Italia ed è tornato presso la scuola sotto ufficiali della Guardia di Finanza che la custodisce dal sisma 2009. Si sono concluse anche le celebrazioni popolari con il concerto del cantatore italo-albanese Ermal Meta blindato con rigide disposizioni antiterrorismo è limitato a 8.000 spettatori sul prato di Colle Maggio. Ed ora apriamo la pagina dello sport Serie B e calcio-mercato a poche ore dalla chiusura della sessione estiva è arrivata l'ufficialità di quella notizia che vi avevamo dato già ieri ovvero il ritorno a Pescara di Antonio Balzano l'ex capitano che arriva a titolo definitivo dal Cagliari il servizio con le ultime appunto di calcio-mercato. C'è anche l'ufficialità Antonio Balzano torna a indossare la divisa del Pescara sembrava un'ipotesi tramontata ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione che è risultata decisiva già ieri l'accordo era stato trovato oggi la formalizzazione Balzano lascia il Cagliari e si lega di nuovo al Pescara a titolo definitivo con un triennale il difensore di Bitonto ha salutato oggi a mezzo social il Cagliari e la tifoseria isolana dicendo che questo non è un addio perché la Sardegna è come una seconda casa dove poter tornare appena possibile La Chiosa ora si torna a combattere dove tutto ha avuto inizio Balzano ha trascorso infatti tre anni a Pescara dove ha vinto un campionato con Zeman ha vissuto una retrocessione dalla A alla B e nella stagione 2013-2014 ha anche indossato la fascia di capitano l'arrivo di Balzano lascia sempre in stand-by l'operazione Petar Golubovic il terzino in uscita dalla Roma arriverebbe in bianca-azzurro solo in caso di partenza di Francesco Zampano sul difensore ci sono Chievo e Benevento i sanniti si sono inseriti negli ultimi giorni resta da capire quanto sia forte l'interesse sul terzino per il quale il Pescara chiede non meno di 2 milioni di euro più bonus difficile va di importo la cessione a poche ore dalla chiusura della sessione estiva domani alle 23 lo stop sempre in difesa praticamente certa la permanenza di Cesare Bovo l'ultima giornata sarà decisiva per Michele Fornasier su cui ci sono Carpi e Ascoli anche se gli emiliani hanno puntellato la difesa con Brosco non dovesse partire difficile che il Pescara possa portare l'affondo decisivo per il 99 di proprietà dell'Inter Zinio Vanoisden sul giovane belga si sta infatti ora muovendo la Sampdoria al centrocampo resta da vedere la posizione di Brugman che piace ad un paio di squadre belghe se l'Asi interessa al Parma in entrata è stato proposto Mattia Vitale sull'ex lancianese di proprietà della Juventus e in uscita dal prestito del Venezia si è però ora fiondata la SPAL novità anche nel Perugia prossimo avversario del Delfino è stato presentato il neoacquisto Filippo Falco trequartista di proprietà del Bologna arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione ho scelto Perugia per il prestigio della piazza per la storia che ha mi hanno tutti parlato benissimo di Perugia poi conoscevo già la società quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene che è una piazza importantissima la squadra gioca ogni 4-3-1-2 dove dovrei fare il trequartista tra il centrocampo e l'attacco però ancora non mi ha dato delle disposizioni tattiche precise è il mio ruolo quello hai i precedenti con il Pescara che è la prossima avversaria del Perugia? Pescara è stata la mia prima partita in Serie B come era andata? è andata bene ho giocato gli ultimi 20 minuti è andata bene poi diciamo li ho ritrovati a Castellammare a gennaio è stata la prima partita anche da titolare in Serie B è domenica scorsa nel debutto in campionato del Pescara contro il Foggia tra i migliori in campo il terzino Alessandro Crescenzi che ha sfruttato l'opportunità dettata proprio dall'assenza di Zampano è stato tra i migliori e ha parlato così in conferenza stampa anche in vista dello sviluppo di questa stagione e del prossimo match a Perugia si è stata una bella partita combattuta il Foggia è venuto qui con voglia di vincere ha fatto una bella partita e sicuramente il risultato sta un po' largo noi abbiamo secondo me fatto una buona partita però delle volte ci siamo abbassati un po' troppo e quindi abbassandoci un po' troppo abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro però alla fine il risultato è quello che conta, siamo in parte soddisfatti ma sappiamo che dobbiamo continuare a migliorare e a fare ciò che chiede il mister sono contento della mia prestazione ma posso dare molto di più e la squadra deve dare molto di più perché il campionato è lungo e lo sappiamo benissimo con una partita si parla troppo bene e poi quando si perde la prima volta poi succede il finimondo la serie B è lunga e secondo me oltre alle qualità tecniche quest'anno ci servirà la fame in tutte le partite dobbiamo avere fame e se abbiamo quella possiamo dire la nostra e arrivare a grandi obiettivi io ho una fame che mi mangerà pure questo microfono perché l'altro anno per noi è stata pesantissima non pensavamo finisse così e non deve succedere mai più quindi da parte mia e della squadra spero ci sia una voglia di tornare in Serie A e di dare il massimo il mister magari non mi vedeva, quest'anno ho trovato spazio queste prime partite ma il campionato è lungo io sono molto sereno nel senso che la concorrenza quando hai degli obiettivi importanti come quello di tornare in Serie A è normale che ci sia e ben venga quindi la squadra è forte e poi penserà il presidente e la società si servirà a qualche altro innesto scendiamo in Serie C il centrocampista del Teramo Lorenzo De Grazi analizza la gara pareggiata all'esordio contro il Mestre per lui impiegato in una posizione atipica come playmaker l'ennesima dimostrazione di duttilità ora per i biancorossi settimana di riposo col campionato che riprenderà per il Diavolo il prossimo 10 di settembre con un'altra trasferta stavolta al Menti di Vicenza ascoltiamo dunque Lorenzo De Grazi intervistato da Agna Cantagalli Lorenzo ripensando al Mestre a Mente Fredda tiri più un sospiro di sollievo oppure dici che peccato? No beh, riguardando anche la partita secondo me un pareggio ci sta anche stretto perché le occasioni le abbiamo create abbiamo visto le statistiche abbiamo fatto 17 tiri mi pare abbiamo avuto anche due o tre palle clamorose il loro portiere ha fatto due o tre interventi anche noi ovviamente gli ultimi 10-15 minuti abbiamo rischiato ma è normale che vogliamo conquistare il pareggio un punto e siamo un po' sbilanciati però il pareggio in extremis è meritatissimo e c'è stata un'ottima prova di squadra e di carattere In Coppa Italia avevi fatto le prove generali nel ruolo di Amadio adesso datti un giudizio su come sei andato Sono due volte che capita che il giorno prima della rifinitura Stefano purtroppo ha qualche problemino e il mister mi impiega lì davanti alla difesa e lo faccio volentieri e mi trovo bene anche lì quindi non è un problema e cerco ogni partita anche in un ruolo non mio di dare il massimo in qualsiasi parte del campo Questo turno di riposo è più un fastidio per voi perché magari interrompe appunto dopo la prima giornata di campionato il cammino del Teramo oppure può essere sfruttato per lavorare su alcuni aspetti? Vabbè un doppio diciamo da una parte possiamo riposare però da una parte ci dispiace perché sai interrompere dopo subito una giornata così non è che ci fa tanto bene però prendiamo così il calendario che è uscito e andremo a Vicenza cercando di giocarcela anche lì Già nella prima giornata ci sono stati alcuni colpi di scena come quello del Reinate che ha battuto il Padova secondo te sarà un campionato ricco di colpi di scena e di risultati non scontati? Sì e beh come si sa il cambio della Lega Pro è un po' particolare quindi qualsiasi squadra se la può giocare con tutti non c'è mai una squadra forte che non cade mai con le piccole quindi ogni partita ha una storia a sé e tutti possono vincere con tutti anche quello è il bello della categoria Mestre e Vicenza sono squadre totalmente differenti il Teramo poi alla ripresa andrà ad affrontare una delle candidate alla promozione beh sì il Mestre era diciamo una che è salita mentre il Vicenza la retrocesse vuole sicuramente ritornare in Serie B però noi come ti ho già detto prima ogni partita ce la giocheremo con tutti perché ce la possiamo giocare la squadra c'è e andremo lì a Vicenza consapevoli di poter far bene e di giocarci le nostre carte e nella giornata di ieri il Teramo ha messo a segno il colpo Mohamed Sumare l'esterno classe 96 arriva dall'Avellino con la formula del prestito con diritto di riscatto cresciuto nelle giovanili dell'Underlecht il guineiano con passaporto belga dopo l'esperienza di due stagioni fa con la maglia del Melfin Lega Pro nel passato campionato ha messo insieme 17 presenze con la maglia degli Irpini nel campionato di Serie B Asta dunque vede aumentare quantitativamente il numero di giocatori a disposizione non solo Sumare infatti perché dal Pescara arriva in prestito anche un altro classe 96 come Andrea Mancini alla sinistra che ha già vestito le maglie di Sant'Arcangelo e Ancona svolta negativa sul fronte a Marco Sansovini il Mantua che aveva chiesto qualche ora di riflessione prima di dare una risposta definitiva si è riterato dalla trattativa per l'attaccante romano è tutto per questa seconda edizione del TG6 il nostro notiziario torna questa sera con la terza edizione alle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata grazie per l'attenzione e buona serata